Finanzamenti del Governo per aumentare la produzione di cannabis per uso terapeutico nell'Istituto Farmaceutico Militare di Firenze, l'unico a produrla in Italia. E' questa la richiesta che il Presidente della Regione Enrico Rossi rivolgerà alla Ministra della Salute, Giulia Grillo. Nelle immagini vedete la visita del Presidente nella sede dell'Istituto, dove ha preso visione delle serre ermeticamente chiuse, illuminate e riscaldate artificialmente ed è il grandissimo capannone che ne potrebbe ospitare molte altre. Il consumo annuale di cannabis terapeutica in Italia si aggira intorno ai 700 kg all'anno. Quest'anno l'Istituto Farmaceutico Militare le produrrà circa 150, che dovrebbero aumentare a 300 grazie ad alcuni finanziamenti governativi. Noi abbiamo in programma anche di iniziare alla distribuzione non solo delle infiorescenze siccate, delle due varietà che facciamo, ma anche dell'estratto in olio, che è molto atteso dai pazienti e dai farmacisti, perché faremo un estratto in olio di grado farmaceutico titolato. Nel corso della visita il Presidente Rossi ha parlato della necessità di aumentare ulteriormente la produzione e gli investimenti. Noi pensiamo che si debba, come diceva il colonnello, raggiungere il livello adeguato di produzione di cannabinoidi. La progressione è quasi geometrica, significa che i medici stanno imparando a prescrivere i cannabinoidi. L'obiettivo in pochi anni è di arrivare intorno a 3500 kg, qualcosa di simile, pensando che su questo obiettivo poi ci si stabilizzi e con una progressione naturalmente più lenta. Il Presidente Rossi ha sottolineato anche la peculiarità della cannabis terapeutica prodotta a Firenze, ovvero di essere sempre uguale a se stessa, come una molecola su cui è possibile fare ricerca e sperimentazione, aprendo così nuovi orizzonti per l'Italia e il resto del mondo.